ciao allora come promesso vi volevo far vedere cosa succede quando io metto queste plastiche in forno dice erika hai spiegato da cani e infatti perdonatemi ricomincio da capo vi ricordate quando avevo comprato questi qua dal tiger si che lo ricordate perché ho girato il video l'altro ieri quindi lo ricordate perfettamente e avevo detto che questi erano dei pezzi di plastica erano due fogli praticamente due fogli questi dovevano essere colorati nella parte ruvida poi immessi al forno prescaldato a 250 gradi per circa tre minuti e quando la plastica inizia restringersi si arriccia quando torna a distendersi significa che è pronta allora io l'avevo visto su un tutorial su facebook mi era piaciuto veramente tanto sapevo che ero un alt tiger avevo visto un video di luisa che l'aveva comprati e quindi ho detto vabbè ci voglio provare voglio vedere allora questi sono praticamente otto 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 bestie si otto bestie no cinque e dieci sono e sono fatte così adesso li tiriamo fuori vi faccio vedere giulia tirameli un po fuori mamma i foglietti e c'ho l'aiutante questa sera l'aiutante perché dopo vi faccio vedere che cosa ho fatto perché avendo preso due fogli io uno l'ho già preparato rompilo pure giulia non ti preoccupa mamma sì 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 non mi serve grazie giu allora praticamente sono fatti così c'è una una velina che separa i due i due fogli c'è una parte liscia che è questa vedete è lucida e c'è una parte opaca che è quella immediatamente arretri ecco questi sono nello specifico i due foglietti va benissimo allora noi dobbiamo colorare all'interno di di questa sagomina senza cercare di uscire fuori perché dopo quando vengono cotti dopo si vede se è sbafato quindi cerchiamo di rimanere dentro la linea e quando andiamo a ritagliare andiamo a ritagliare sulla linea tratteggiata possibilmente sopra perché comunque se andiamo troppo in fuori quando la plastica si restringe poi alla fine si vedono questi tratteggi allora mi raccomando si colora con la parte la parte ruvida mi dai un attimo i colori giulia la scatola la scatola solo la va bene così va bene così grazie scusa allora io ho provato con i colori a spirito non colora anche sulla parte ruvida non colora ho provato con gli acquerellabili con tipo gesso che poi diventa un acquerellabile della stabilo niente non fa niente praticamente ho semplicemente utilizzato dei pastelli questi qua giotto niente di che forse semplici hanno colorato grazie mammina hanno colorato perfettamente poi li ho ritagliati ho prescaldato il forno a 250 statico non ventilato li ho adagiati sopra un vassoio con la carta forno con la parte ruvida quella che io ho colorato così a bella vista così non nella parte lucida nella parte chiudo il forno dopo due secondi tre secondi che erano dentro hanno incominciato a ricciarsi tutti quanti a piegarsi e poi ritornare dritti e il risultato è questo adesso ve lo faccio vedere allora nello specifico allora cerchiamo di mettere il foglio qui sopra va così è meglio vediamo meglio allora nello specifico se io prendo il gatto lo vedete guardate dopo come diventa diventa piccolissimo a ovviamente qui c'è il buco dovete fare il buco con la foratrice quella da anelli è duro è pochetto duro anche da ritagliare è duro io ho usato delle semplici forbici da forbicina da manicure però non è che è stata una bellissima idea allora vi voglio far vedere questa è la parte dove io è la parte dove io li ho colorati questa qui scusate dondolo perché voglio un attimo ecco farvela vedere proprio bene ok quando io sono andata a ritagliare è rimasto un attimino il rigo vabbè lo spessore cambia perché quando si arrivano si rimpicciolisce tutta l'immagine e lo spessore cambia vedete e mentre originariamente è un foglietto di blexiglass sembra comunque morbido ecco quando poi si è cotto è duro e diventa duro diventa proprio un ciondolino e non non si muove più allora quando poi lo andiamo a vedere nella parte bella vedete vedete non metto a fuoco scusate rimane ok rimane bello comunque lucido vedete è così la scimmietta il gattino era la prova per vedere se prendeva i pennarelli a spirito non li prendeva non colorava io ho colorato quei pastelli dopo è rimasto macchiato ma non importa perché comunque ci interessa io volevo provare ero curiosissima di fare questa cosa ovviamente tiger vabbè non mi piace però a parte questo la volpe la giraffina così il dodo il dodo come si chiama insomma gli altri fanno un pochino schifio di cerica però anche tu nel colorarlo non è che hai aumentato la bellezza perché l'hai fatto celeste sto pinguino sì però pensavo un attimino di renderlo più simpatico così invece no fatto schifizio c'è poi il coccodrillo quello che mi piace a me tanto è la volpe tantissimo la volpe stupenda cioè sembra proprio pitturato no invece è semplicemente sono semplicemente dei pastelli dietro ok allora questo è quanto adesso mia figlia li colorerà avevo lo fa vedere una cosa anche loro dico di tenerlo tre minuti allora io ho tenuto dipende poi dal soggetto perché la volpe è piatta la giraffa si è tutta piegata ora io non so il motivo per cui vedete si piega si è piegata sicuramente ho sbagliato io però non riesco a capire anche questo è rimasto un po concavo un po bombato vedete però ecco diciamo che come prova a me va benissimo così userò comunque come decori per l'agenda trovo che sia veramente simpatica questa cosa e adesso mia figlia dico giulia me li colori mamma capirà è tutta contenta adesso li colorerà lei dopo li ritaglierò vi faccio vedere come funziona un bacio qua questa è la colorate giulia scusate c'ho la zona d'ombra ecco questa è la colorate giulia sei sbizzarrita ho usato la fantasia gli ho detto però mammina questo e questo rispettali perché questi mi piacciono proprio tanto anche il gattuccio gli ho fatto fa perché questo è troppo carino gli altri poi ho detto basta 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 mi sono stufata stasera allora anche perché ritaglia questi è duro cioè vedete è sottilissimo però è plexiglass sembra è duro questo qui io ho le forbicine da manicure mi sono un po sdellantate quindi ho detto basta basta prima che me le rompo dopo mi serve per le clippe le devo andare a ricomprare non si può spendere per cose vabbè allora mi raccomando bisogna tenere no la parte lucida no la parte lucida la vediamo dopo dobbiamo mettere dove abbiamo colorato nella parte ruvida dobbiamo lasciarlo così bisogna metterlo in una tegetta con la carta forno apriamo il nostro forno che ha raggiunto la temperatura di 250 inseriamo le nostre le nostre queste chiudiamo e adesso in teoria dobbiamo aspettare tre minuti in pratica spillo cammina mamma in pratica vi faccio vedere cosa succede piano piano queste qui prendono ecco vedete se piegano tutte infatti ho detto giulia che non vede come fa mamma sì sì se piegano tutte è questa scolata che vedete nel video e del sul vetro e praticamente dentro al vetro non è ne c'è c'è una scolata qua ma non è for scusate un po interessato c'è chi ci può fare a casa dire che schifo no no è tra i due vetri c'è stacolata io ce l'ho trovata quindi praticamente vedete questi si sono rimpiccioliti ma non hanno ancora non si sono ancora rimessi giù tutti quindi non posso aprire in teoria questi mano a mano si mettono giù e dopo io posso riaprire questi sono diventati piccoli piccoli non li devo toccare subito assolutissimamente perché sono morbidi perché la plastica è cotta quindi questi sono morbidi e non vanno toccati subito si tira fuori e si lascia raffreddare tanto ci spillo che passeggia ecco una volta fatto questo tiro fuori dal forno aspettate eccoli qua le ho tirati fuori vedete come sono diventati piccolissimi e hanno fatto il loro spessore io ancora non li tocco perché sono caldi e adesso sono morbidi quindi io non li tocco questi sono dopo mi raccomando prima di infornarli fate il buco con la foratrice perché dopo non è più possibile perché quando questi ritiriamo fuori vedete i buchi sono piccolissimi c'entra praticamente proprio un anellino per fare i charms ecco possono essere messe sull'agenda come braccialetti come charms sui braccialetti orecchini se avete doppioni ho preso due pacchetti quindi si può fare come orecchini qualsiasi cosa qualsiasi cosa un ciondolo o la collanina qualsiasi cosa vi viene in mente si possono fare vi mando un bacio spero di essere stata d'aiuto sicuramente lo farete meglio di me perché io non sono stata molto precisa con la cottura ho tirato prima dei tre minuti perché secondo me tre minuti sono troppi comunque una volta fatto questo ecco il risultato è questo qui sono carinissime e proprio belle sì mi piacciono proprio e poi le ha fatte mia figlia a questi qua ciao ciao a tutti